Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio affrontare con voi una tematica molto interessante. Voglio parlarvi di un Hitler diverso e voglio farlo andandovi a leggere anche delle dichiarazioni che furono raccolte nel libro Hitler Speaks. Quindi Hitler parla del suo assistente, il libro del suo assistente Hermann Rauschning che era proprio stretto collaboratore di Hitler, era sempre con lui, quindi descrive anche in questo libro molte delle cose che ad oggi nei classici documentari di storia non vengono per niente menzionate. Penso che questi punti possano anche farci comprendere da quale forza Hitler fosse in realtà dominato e di come questi esseri, questa energia profondamente negativa, può effettivamente impossessarsi di questi tra virgolette individui chiave che non sono altro che ibridi appartenenti alla stirpe genetica che loro riescono più facilmente a controllare. Fondamentalmente la stirpe ibrida ha un determinato patrimonio genetico che permette a questi esseri chiamateli come volete, demoni, energia negativa perché alla fine tutto quanto energia potete chiamarli rettiliani come volete li chiamate, però ecco questa stirpe, quando si parla di stirpe o di ibridi e qui potrei anche mettere nel calderone gli stessi politici, primi ministri, non sono altro che persone che hanno un determinato patrimonio genetico che permette a questi esseri che manipolano questa dimensione da un'altra di prendere il loro possesso. Prima però di addentrarci in questa tematica che sicuramente per molti sarà anche interessante, volevo dirvi che presto sul canale cominceremo a parlare di tematiche belle, pesanti. Cercherò sempre comunque di farlo con parole semplici per cercare di far comprendere a tutti quanti, ok? Quindi insomma lì poi la scelta è vostra, la scelta è vostra perché mi rendo conto che non tutti sono interessati a tematiche come questa ma affrontare simili tematiche ci serve poi anche a capire quello che sta avvenendo ad oggi e andremo quindi a parlare del regno di Sion, del sionismo roccildiano, di come i Rothschild che si definiscono ebrei usano in realtà la popolazione ebrea come vogliono sia in negativo sia in positivo. Quindi quando hanno per esempio da demonizzare un personaggio dicono sì tu sei razzista nei confronti degli ebrei e quindi vengono queste persone poi definite antisemite oppure quando devono raggiungere uno scopo che cosa fanno? Utilizzano quegli stessi ebrei che loro dichiarano di difendere come scudo e questo l'abbiamo visto nel corso del secondo conflitto mondiale quando sono stati loro in primis a finanziare la Germania nazista e sappiamo benissimo cosa è accaduto nel corso della seconda guerra mondiale agli ebrei ma non solo agli ebrei quindi e queste cose le dicono gli stessi ebrei ragazzi ecco perché faremo una distinzione parleremo appunto del sionismo rocciliano di come è nata israele del perché e soprattutto cosa hanno combinato per andare a creare israele si sono appropriati praticamente di terre che non erano nemmeno loro ma questo è il modus operandi che utilizzano ormai da sempre andremo anche a parlare delle società segrete finalmente quindi vi parlerò dei templari del dell'opus dei dei gesuiti insomma e vedremo come in apparenza queste società segrete sembrano essere diverse o comunque divise tra loro ma in realtà no perché tutte quante si inginocchiano dinnanzi ad un unico potere e tutte quante rincorrono uno stesso fine ultimo quindi vi ho fatto queste anticipazioni per dirvi che parleremo di questo prossimamente sul canale quindi se vi va restate sintonizzati altrimenti lo sapete fa nulla e inoltre ovviamente finiremo anche ciò che abbiamo iniziato e quindi la serie dedicata alle rivelazioni di richard day ma adesso torniamo alla nostra tematica oggi volevo proporvi una visione di hitler diversa come vi dicevo all'inizio del video noi sappiamo tutto quello che lui ha fatto lui fondamentalmente come se fosse stato utilizzato come volto nel senso che a manovrare gli eventi ormai lo sappiamo tutti erano altri e lui è stato stanziato lì proprio come volto per dare un volto a tutto il male che si stava facendo ma il male non è derivato direttamente da lui lui si è prestato lui ha in un certo senso accettato questa ideologia ha accettato tutto questo però in realtà le pedine e tutto quanto era stabilito da posizioni più alte dello stesso hitler qui ci sono delle dichiarazioni che comunque insomma basta fare delle ricerche per trovare tutto questo basta informarsi sul libro appunto hitler speaks di herman raushning e conoscere un po di storia quindi io che sono un appassionata di storia ho visto tantissimi documentari e adesso vi faccio anche vedere un'altra cosa ho dovuto bloccare proprio per alzarmi e prendere questo che ho rubato per modo di dire al mio papà me lo sono portata perché io proprio ci sguazzo nella storia mi piace tantissimo mi piace tantissimo la storia e appunto negli scatoloni mesi fa ho aggiunto anche questo allora questa è una collana di fascicoli che pensate un po qui c'è scritto ancora eccezionale offerta lancio uno più due fascicolo a sole mille lire quindi ancora quando c'erano le lire mi ricordo di aver portato questo fascicolo anche al liceo quando ero lì comunque anni fa quando ancora frequentavo il liceo e molti insegnanti si interessarono a questo fascicolo tant'è che addirittura l'insegnante di tedesco mi chiese di vedete qui praticamente c'è tutto mi chiese addirittura di questa praticamente qui c'è la la traduzione del documento il comando supremo delle forze armate direttiva numero uno per la condotta di guerra queste questa è praticamente la fotocopia originale la fotocopia dell'originale della dichiarazione di guerra ci sono addirittura gli appunti e tutto vedete e anche la carta è proprio di quelle di una volta io ho tutta questa documentazione che ricordo proprio portare anche a scuola proprio tutto gli appunti tutto tutto fotocopiato e qui c'è poi la traduzione del documento queste sono cose che non si trovano più mio papà le acquistò e io ovviamente ho detto no papà davvero hai queste cose infatti qui c'è scritto anche berlino l'anno vedete è proprio la fotocopia del documento originale tant'è che vi dicevo appunto la professoressa di tedesco prese questo questa cartelletta con questo fascicolo e mi chiese di tenerla perché voleva fare le fotocopie inoltre questo fascicolo contiene anche questi altri fascicoli vedete vedete qui praticamente è racchiusa tutta la storia io li ho letti tutti e appunto qui ci sono anche numerose curiosità che devo dire non vengono più riprese nei documentari di storia c'è veramente scritto tutto vedete le le squadre prima parte le ss poi c'è la seconda parte quindi la documentazione le cose di cui vi parlo le trovate diciamo un po ovunque io sono fortunata ad avere questi fascicoli perché io lo dico sempre per conoscere la storia bisogna assolutamente prima comprendere ciò che è accaduto in passato purtroppo però nessuno si ferma di a studiare quello che è accaduto in passato a me piace tanto qui ci sono pure immagini esclusive c'è tutto c'è tutto questo è proprio una raccolta di fascicoli sul terzo reich che io ho da brava figlia preso a mio papà e su cui ho studiato tanto tempo un quaderno intero in cui proprio contengono quaderni che contengono proprio tutti gli appunti tutti gli appunti proprio presi da qua e sono 21 volumi si è addirittura qui ci sono anche se forse non sono tutti qua forse ne ho lasciato qualcuno la perché a volte li prende non li metto all'interno della cartelletta perché già come potete vedere la cartelletta è quello che è tutta rovinata perché sono tanti anni ormai vi parla di tutto pugni d'acciaio ascesa al potere ordine nuovo sognando l'impero guerra lampo branchi di lupi la conquista dei balcani insomma di tutto e quindi io ho la fortuna di avere questi documenti e soprattutto anche la fotocopia della stessa dichiarazione di guerra visto che a volte qualcuno di voi mi chiede le fonti queste sono le fonti queste poi alcune cose le trovate anche nei libri di Ike che parla tantissimo dell'ascesa al potere di Hitler descrivendola addirittura come uno Rothschild quindi questi sono i libri sì questi sono i libri anche sul web si trova qualcosa però è giusto comunque dirvi anche da dove mi informo in realtà questo queste saranno solo poche dichiarazioni per farvi capire che secondo molti Hitler era in realtà posseduto allora noi sappiamo che Hitler a parte tutto quello che ha fatto scusatemi la il mio deragliare ma volevo appunto mostrarvi questo fascicolo fatemi sapere se anche qualcuno di voi ce l'ha allora lui oltre ad essersi macchiato di numerevoli colpe crimini si dice anche che avesse una vera e propria passione per l'occulto infatti proprio nell'epoca nazista anche se qui mi fa ridere parlare di epoca nazista il nazismo non è mai stato in realtà cancellato e lo sappiamo benissimo però ecco in epoca nazista loro andavano a rincorrere anche degli ideali appunto occulti addirittura si parla di Hitler affascinato dagli extraterrestri dalla forza Vril sappiamo e soprattutto dalla concezione del super uomo di cui parleremo allora il Hitler o meglio la capacità di Hitler di ammaliare il pubblico è stata più volte paragonata alle arti occulte per esempio dei guaritori africani e degli sciamani asiatici l'assistente di Hitler Erman Rauschning nel suo libro come vi dicevo Hitler speaks parla Hitler scrive queste parole non si può fare a meno di pensare a lui come un medium per la maggior parte del tempo i medium sono persone comune e comuni ed insignificanti improvvisamente però vengono dotati di quelli che sembrano essere poteri soprannaturali che li contraddistinguono dal resto dell'umanità il medium è posseduto o medium insomma a volte qualcuno di voi mi corregge io mi trovo più comoda a usare medium quindi il medium è posseduto una volta che la crisi è passata ripiomba nuovamente nella normalità al di là di ogni dubbio è così che Hitler veniva posseduto da forze esterne alla sua persona forze quasi demoniache di cui l'uomo individuale Hitler non era che il veicolo temporaneo la miscellanea del banale con il soprannaturale creda creava quell'intollerabile dualità di cui era cosciente chi si trovava in sua presenza era come guardare un volto bizzarro la cui espressione sembrava riflettere un atteggiamento mentale squilibrato accompagnato a un'inquietante impressione dell'esistenza di poteri occulti quindi Hitler era affascinato dall'occulto e appunto vedete qui l'assistente Rauschning ci dice che chi era in sua presenza si accorgeva proprio di questa sua dualità di questo suo era come se lui fosse due individui allo stesso tempo ed avesse la consapevolezza tra l'altro di essere posseduto da qualcosa perché sentite qui Hitler era secondo tanti un essere posseduto un altro veicolo come lo sono tra l'altro ad oggi i vari presidenti i vari primi ministri e tante altre persone stanziate in tante posizioni di potere veicolo per questi esseri che tramite gli individui qui sulla terra magari possedendoli cercano di sistemare il mondo al loro piacimento quindi qui dice che Hitler non era altro che un ulteriore veicolo di queste forze negative ultradimensionali e sembrava vivere con questa eterna paura del super uomo Hitler in una confessione che farà al suo assistente dirà di aver visto l'uomo del futuro e di esserne rimasto terrorizzato cioè capite il paradosso Hitler che dice di essere terrorizzato quando era il primo no a seminare terrore dall'uomo del futuro ma ascoltate un po quindi alcuni dicono che cos'è che in realtà ha visto Hitler tra l'altro non è una novità Hitler molto spesso nel cuore della notte si svegliava e questo è stato anche Rauschning a dichiararlo nel cuore della notte si svegliava e diceva agli altri lì c'è qualcuno no no in quell'angolo c'è qualcuno c'è qualcuno quindi era parecchio spaventato cos'è che vedeva in quegli attimi Erman Rauschning racconta che Hitler aveva incubi terribili e si svegliava in preda al terrore urlando di entità invisibili che tutti non riuscivano a vedere ma lui sì una volta Hitler disse al suo assistente queste parole queste sono le parole di Hitler che disse a Erman Rauschning come sarà l'ordine sociale in futuro te lo dico io camerata ci sarà una classe di capi assoluti e dopo di loro ranghi e fila di membri del partito in ordine gerarchico e poi la grande massa di seguaci anonimi servitori e lavoratori per l'eternità e sotto di essi tutte le razze straniere che sono state conquistate i moderni schiavi e al di sopra di tutti regnerà una nuova ed elevata nobiltà di cui però non posso parlare ma di tutti questi piani i membri militanti non sapranno nulla l'uomo nuovo vive tra noi adesso egli è qui non è abbastanza per voi ti confiderò un segreto io ho visto l'uomo nuovo e impavido e crudele ne ho avuto paura queste sono state le confessioni di Hitler al suo assistente addirittura ho visto l'uomo del futuro l'uomo nuovo e impavido e crudele ne ho avuto paura c'è Hitler che lui stesso crudele che dice al suo assistente ho avuto paura di questo uomo nuovo ed è questa la società ragazzi che questa energia negativa che potete chiamare rettiliani potete chiamare demoni potete chiamare energia sta pianificando di fare con l'umanità loro vogliono imporre la razza padrona tant'è che lo stesso concetto della razza pura che non ha assolutamente avuto luogo non è nata questa ideologia non è nata col nazismo ma già dalle scuole misteriche di babilonia la stessa razza ariana questo andare a privilegiare esseri con capelli chiari biondi occhi azzurri non fa altro che appartenere a questa razza extraterrestre che si dice vivesse in antichità e che aveva le stesse caratteristiche si diceva che quella razza fosse perfetta e quindi poi quest'ideologia comunque non è morta nel tempo ha continuato ad esistere fin quando poi vedete è stata adottata anche dal nazismo che voleva reclutare persone che avevano questa secondo loro purezza genetica il comportamento di Hitler era estremamente indicativo della possessione demoniaca compresi i suoi strani tic perché lui effettivamente se voi anche vedete le sue dichiarazioni i suoi discorsi pubblici lui aveva dei tic anche quando per esempio si enfatizzava ecco anche quando enfatizzava determinate cose lui era in preda ai tic simili a piccoli attacchi epilettici e chi comunque faceva parte della sua stretta cerchia anche lo ha confessato molte persone vicino a Hitler raccontavano di come non si svegliasse di come scusatemi si svegliasse nel cuore della notte urlando in preda alle convulsioni implorava aiuto in quei momenti e sembrava semi paralizzato annaspava fino quasi a soffocare e spesso pienamente cosciente indicava lo spazio apparentemente vuoto e gridava lui è lì no lì è nell'angolo quindi capite Hitler era anche ossessionato dall'eroe carlo magno ma non soltanto lui ragazzi non so se lo sapete ma tutti quasi i nazisti sono sempre stati ossessionati da carlo magno infatti si dice che carlo magno fosse di stir per rettiliana e come altri nazisti di punta trascorreva molto tempo a berchtesgarden in baviera dove secondo una leggenda lo spirito di carlo magno dimorerebbe sui monti ober salzberg in attesa che giunga il momento di fare ritorno e riportare la germania alla grandezza di un tempo Hitler e i nazisti non erano altro che strumenti dello stesso potere che ad oggi governa gli eventi e che ad oggi vuole destabilizzare ulteriormente la vita umana portandola ad affrontare un ulteriore conflitto quindi loro sono abituati da sempre ragazzi a creare conflitti qui adesso mi riferisco alle famiglie elitari e Rothschild che hanno praticamente il monopolio di tutto quanto e infatti qui poi mi appuntavo Hitler e i nazisti erano strumenti di questa forza negativa e dei loro eminenti rappresentanti in carne e ossa come la famiglia Rothschild erano abituati a creare conflitti globali e a fornire la scusa per una patria ebrea in palestina e di qui poi andremo anche a parlare di quello che loro hanno combinato ai palestinesi del fatto che si sono appropriati illegalmente di quelle terre per per dare una patria agli ebrei e parleremo appunto della nascita di israele ora quello che fa veramente rabbrividire è che questa storia venga ancora una volta in un certo senso celata che non se ne parli abbastanza le persone fondamentalmente conoscono la storiella come viene appunto riferita dai libri accademici che sono manipolati come abbiamo visto nel nel nono episodio della serie richard dei quindi tutto quanto ecco non si riesce bene ad inquadrare ora io vi chiedo a voi che cosa ne pensate di queste dichiarazioni che cosa pensate della della figura di Hitler era secondo voi realmente posseduto come lo sono tanti anche al giorno d'oggi vi basta guardarli negli occhi oppure pensate che sono semplicemente storie che a cui insomma voi non credete cosa ne pensate poi anche delle dichiarazioni del suo assistente Herman Rauschning ci credete non ci credete insomma chi conosce le forze o meglio chi ha studiato per lungo tempo gli eventi o comunque chi crede in queste forze negative perché come ci sono energie positive c'è anche l'energia negativa sicuramente da questo spunto di riflessione avrà appreso abbastanza per poi andare a maturare un pensiero o meglio ragionamento individuale io per il momento vi lascio qui spero di avervi tenuto compagnia di avervi dato perché no qualche spunto interessante su cui riflettere fatemi sapere tutto quello che volete se avete anche da aggiungere qualcosa in realtà di cose ce ne sarebbero da aggiungere però non voglio dilungarmi ancora tanto se poi siete insomma se volete qualche approfondimento me lo scriverete sotto nei commenti io vi lascio qui un abbraccio enorme fatemi sapere come state siete sempre nel mio cuore vi amo anime siamo sempre connessi ricordatevelo vi auguro un buon proseguimento di giornata o serata e noi ci vediamo alla prossima